Arrivismo. Come bisogna valutare l'arrivismo? Commento. Come un'illusione prodotta dalla media condizione umana. Il contrasto che l'arrivismo crea con la legge produce spesso molto dolore, che non è mai un nemico ma uno strumento dell'evoluzione che ci guida al meglio. L'arrivismo è fatica e conquista ma anche disfatta. L'uomo lo constata nella sua vita e nel sorgere e cadere delle civiltà.